Lo chef e la moglie hanno condiviso sui social un momento molto emozionante. Enza dubbio quella tagliata nell'ultimo video social da Damiano Carrara è stata la torta più dolce della sua vita. Lo chef pasticcere, in questi giorni in tv con il fratello come concorrente di Pechino Express, ha condiviso con i follower un momento molto emozionante che lo vede protagonista con la moglie Chiara Magenti della scoperta del sesso del loro primo figlio. Quante volte ha chiederci se l'amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando e aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti e immaginarti più concretamente nell'attesa. Ha scritto Carrara a corredo del video Instagram che mostra la coppia intenta a tagliare una torta dal ripieno rivelatore del colore rosa. Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due, e Paco, emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra. Vita che cela la scoperta più dolce. Sarai l'amore più grande della nostra vita piccola nostra. Mamma e papà non vedono l'ora di conoscerti e stringerti forte. Parole piene di emozione le sue, perfettamente allineate alla scena che ha raccontato le lacrime di gioia dei futuri genitori pronti ad abbracciare la loro bimba. Damiano Carrara e Chiara Magenti si sono sposati a luglio 2022, dopo una serie di rinvii dovuti alla pandemia e a un incidente domestico capitato alla futura sposa. Le nozze sono state celebrate nella loro Toscana e gli sposi non hanno esitato a condividere il gran giorno con i follower. Ci siamo conosciuti cinque anni fa, aveva raccontato Chiara Vanity Fair nel 2023, è stato un caso. Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera, ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ed è stato colpo di fulmine. Forse era scritto da qualche parte che avrei dovuto incontrarlo, quella sera avevo un altro programma, è stato davvero un caso trovarci lì. Per lavorare insieme ci vuole un gran feeling per lavorare insieme quando si è una coppia d'amore. Bisogna essere bravi a ritagliarsi degli spazi solo per noi, ma devo dire che, in questo, siamo abbastanza bravi.